Siamo di nuovo a Castrovillari in diretta, sta arrivando di nuovo l'aereo militare, lo spray B-22 convertiplano dei militari americani per un'esercitazione del fruscio della radio scusate ovviamente li vediamo il giorno Siamo di nuovo a Castrovillari in diretta Siamo di nuovo a Castrovillari in diretta Siamo di nuovo a Castrovillari in diretta C'è molto vento oggi Grazie 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 Fanno un giro sul Castrovillari e sicuramente ritornano Leggo Gaetano Sancinetti, sono loro che fanno casino, ma cosa stai dicendo? Questa è poesia, è arte, è musica Quale casino Il mio grande amico Gaetano La radio Vedete? Per adesso se... Posso comunicare con loro secondo me aterrono qua il vetto è assurdo, vola tutto il vetto è assurdo, vola tutto Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.